Quarti di finale in Coppa Lombardia in prima categoria, si sfidano Ponte Vecchio e Garibaldina e Biancazzurri hanno eliminato il ferno agli ottavi, ma la Garibaldina di Daniele Prete è avversaria insidiosissima che ha già vinto in trasferta a Rovellasca. Pronti via, palla messa dentro da Bruschi, svirgola Franchini che per poco non beffa il suo portiere. Sul fronte opposto, bella palla lavorata da Rossoni e tiro di prima intenzione di Ciccolella, ma il pallone finisce ampiamente a lato, gara soprattutto tattica, ma nel primo tempo meglio la Garibaldina, palla di Cominetti per Rossoni, ben appostato nel cuore dell'area di rigore, ma il trequartista svirgola, clamorosamente si rivede il Ponte Vecchio, scambio tra Calandrino e Marchetti, ma sul pallone di ritorno del numero 9, Naggi è in fuorigioco e la bandierina si alza. Poi l'occasionissima che capita alla Garibaldina, spunto di Cominetti sulla fascia destra, girata di prima intenzione di Rossoni che stavolta colpisce il pallone, ma manda altissimo finale di primo tempo con il Ponte Vecchio che cresce di intensità, prima la conclusione da fuori area di Bruschi, ma il centrocampista scivola al momento del tiro e il pallone si impenna. Poi bella palla di Marchetti per Naggi, scivola un giocatore della Garibaldina stavolta, ma il numero 7 non si fida del suo destro, palla messa in mezzo e la difesa libera infine cross dalla sinistra di Raineri, colpo di testa di Calandrino che anticipa tutti, ma il pallone va alto. Partita che resta così bloccata sullo 0-0 con le immagini, andiamo allora nella ripresa, altro spunto di Cominetti questa volta sulla corsia mancina, palla dentro per Rossetti che controlla e spara, ma anche il numero 9 non inquadra la porta da buona posizione, chance sprecata mentre il Ponte Vecchio si rivede sull'asse Calandrino napolitano, ma il tiro cross del capitano è respinto da Antonini con i piedi, Garibaldina che prova a sfruttare anche i piazzati senza però essere incisiva tra gli uomini più pericolosi del Ponte Vecchio, invece c'è Franchini, difensore della Garibaldina che per poco rischia ancora una volta di beffare Antonini bravo a distendersi e mettere in corner. Partita che non si sblocca e si va così con i tiri dal dischetto per decidere che andrà in semifinale, primo giro che vede la sfida tra numeri 10 Cominetti si fa ipnotizzare da Raina, mentre Calandrino a fatica supera Antonini, seconda conclusione da una parte, Ciccolella segna il primo rigore per la Garibaldina, imitato poi da Marchetti per il Ponte Vecchio, brividissimo sul tiro di Galasso, pallone che bacia la parte bassa della traversa e finisce oltre la riga, mentre Bruschi manda clamorosamente altro sopra la porta, difesa da Antonini, si prosegue Gaudio da una parte, Fava dall'altra, non sbagliano i rispettivi calci di rigore, così come sono perfette le esecuzioni di Lorusso e Soresina, entrambi entrati dalla panchina, eccolo qua, il tiro di Soresina, si va a oltranza, Colosimo spiazza il portiere, mentre dall'altra parte Antonini para il tiro di Belloli e regala alla Garibaldina il passaggio del turno, grande festa, corsa verso i propri tifosi e corri negli spogliatoi in semifinale, sarà doppia sfida a Galbiate.